Una delle macchine più belle di questa bellissima Gymkhana, una livrea nazionale, la macchina più patriottica delle Gymkhana guidata dal giovane Giorgio Curri da Celia Messapica con il numero 86. Signori e signori, un grande applauso anche per Giorgio Curri con il numero 86 da Celia Messapica sulla sua 127 Fiat. Un'ultima fase di percorsa anche per lui, dentro marcia.